Segretario, i sindacati chiedono tamponi rapidi nelle scuole anche alla luce di quello che sta accadendo considerando l'inizio ormai completo dell'anno scolastico? Sì, effettivamente i dati che sono stati diffusi dalla stampa provenienti dalla regione ci hanno allarmato perché questo 0,7% diffuso in una comunità scolastica significa di fatto potenziali 7-8 casi, praticamente un focolaio. A questo punto, quindi nel concreto voi cosa chiedete? Chiediamo alla regione un impegno forte, una campagna di screening volontario rivolto agli alunni ma rivolto anche al restante personale a cui non è stato destinato al momento, cioè gli assistenti educativi che sono nella scuola, il personale delle mense ma anche il personale che si occupa del trasporto scolastico. L'anno scolastico è partito qualche giorno e quindi ovviamente siamo molto preoccupati, in qualche caso già lo abbiamo registrato ovviamente si sta intervenendo in maniera specifica su questi casi ma questi dati sono allarmanti e quindi chiediamo che venga avviato questo screening, tra l'altro è l'attenzione un po' di tutta la nazione al momento. Uno screening che però avrebbe anche dei costi per la regione? Ovviamente, però i costi sarebbero molto maggiori se lo screening viene fatto sulla pelle degli alunni e del personale.